Si è spento all'età di 81 anni Gary Marshall, regista di film di successo come Pretty Woman e creatore della famosa serie TV Happy Days e Mork & Mindy. Attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico, Marshall era nato a New York il 13 novembre 1934. Oltre al film che ha lanciato Julia Roberts, Gary ha diretto anche commedie romantiche come Paura d'Amare nel 1991 con Al Pacino e Michelle Pfeiffer. Nel 1999 ha riunito la coppia formata da Richard Gere e Julia Roberts con Se scappi ti sposo.